È un corso molto importante perché dà delle strategie fenomenali. Secondo me questo è un corso utilissimo che moltissime persone dovrebbero fare perché ti dà tutte le conoscenze e le competenze per poter sapere gestire al meglio i tuoi soldi. Assolutamente sì. Sono contento di essermi fidato e a venire insomma a partecipare. Guarda, questo è un corso che consiglierei a tutti. È un'ottima preparazione per il futuro, dandoti anche una possibilità per il presente. Penso che sia un ottimo corso nel senso che io sono venuto qui come accompagnatore quindi non ne sapevo granché, cioè non me l'aspettavo sinceramente. È un corso che riesce a darti tante nozioni in poco tempo però è adatto a chiunque perché io ero neofita dell'argomento ed è stato chiarissimo, ho capito tutto. La capacità di intrattenimento accostato alla tecnicità? Beh, cosa penso del corso? Una cosa utile come l'aria che respiriamo. Penso di aver incontrato delle persone sinceri, trasparenti e che sono andate direttamente al cuore delle persone. Mi porto via un bel bagaglio tecnico, una bella esperienza. Hanno regole semplici, facili da capire. No, c'è un sistema, si segue il sistema, ci sono gli strumenti dati e si fa quello che si deve fare. Una bellissima esperienza e direi arricchente anche per le consapevolezze che dà. Lo consiglierei, come dicevo prima, a figlioli perché è un bel progetto e anche parenti e amici. Ere è la pratica, questo mi è piaciuto. È validissimo secondo me, sicuramente ti dà un ampio spettro di veduta. Mi è piaciuta tantissimo la semplicità con cui spiegano i concetti, sono molto chiari, arrivano dritti al punto e puoi immediatamente capire cosa puoi fare già dal qualche giorno successivo. Immediatamente loro sono in grado di metterti nelle condizioni per camminare con le tue gambe. Sicuramente la chiarezza, la determinazione anche e l'impegno perché già sono praticamente quelle caratteristiche che fanno la serietà e la professionalità soprattutto. Sicuramente da questo corso mi porto via una maggiore conoscenza di quella che è la finanza, di come si può investire. Tutto l'evento è stato ben strutturato, ben organizzato nei miei particolari. Grazie a tutti.